Buongiorno, oggi ci tocca raccontarvi l'ennesima vergogna del Partito Democratico, mentono sapendo di mentire, vanno in giro per la Toscana a dire che la sanità migliorerà senz'altro e tanto per gradire, intanto hanno bocciato un emendamento alla loro legge vergogna tra l'altro, un emendamento proposto da noi che accoglieva le richieste dei sindaci, dei piccoli comuni e dei comuni di zone disagiate, montane, insulari e di confine in cui si chiedeva che fosse per legge stabilito che non devono chiudere il presidio ospedaliero, l'hanno bocciata, questo è il PD, nonostante una capacità nostra di integrare anche nel contesto di leggi che non condividiamo questo tipo di possibilità, il PD ce l'ha in qualche modo negata, ha bocciato la possibilità che tutti i cittadini toscani abbiano vari diritti rispetto a livelli essenziali di assistenza. Grazie. Grazie.